Martedì della ventesima settimana del Tempo Ordinario Dal Vangelo secondo Matteo In quel tempo Gesù disse ai Suoi discepoli, In verità io vi dico, difficilmente un ricco entrerà nel Regno dei Cieli. Ve lo ripeto, è più facile che un cammello passi per la cruna di un ago, che un ricco entri nel Regno di Dio. A queste parole i discepoli rimasero molto stupiti e dicevano, Allora chi può essere salvato? Gesù li guardò e disse, Questo è impossibile agli uomini, ma a Dio tutto è possibile. Allora Pietro gli rispose, Ecco, noi abbiamo lasciato tutto e ti abbiamo seguito. Che cosa dunque ne avremo? E Gesù disse loro, In verità io vi dico, Voi che mi avete seguito, Quando il Figlio dell'uomo sarà seduto sul trono della sua gloria, Alla rigenerazione del mondo, Siederete anche voi su dodici troni, A giudicare le dodici tribù di Israele. Chiunque avrà lasciato case, O fratelli, O sorelle, O padre, O madre, O figli, O campi per il mio nome, Riceverà cento volte tanto, E avrà in eredità la vita eterna. Molti dei primi saranno ultimi, E molti degli ultimi saranno primi. Commento al Vangelo del giorno di Don Luigi Maria Epicoco E' più facile che un cammello passi per la cruna di un ago, Che un ricco entri nel regno di Dio. Certe frasi del Vangelo non hanno bisogno di presentazioni, Perché ormai sono entrate nell'immaginario comune. Eppure, questa frase, ormai diventata famosa, E' anche una frase fraintesa, Perché Gesù non sta parlando della semplice ricchezza, Bensì del rapporto che noi costruiamo con le cose. Quando le cose, O anche solo il desiderio di esse, Appaga, O fusca i nostri bisogni, Allora siamo intrappolati, Come un cammello che deve passare per la cruna di un ago. Quando si arriva a credere di non aver bisogno degli altri, Di Dio, Dell'amore, Di una speranza grande, Di un amico, Allora noi ci comportiamo come ricchi, E per uno così, Non è facile salvarsi. Finché non riprendiamo confidenza, Con il fatto che noi siamo innanzitutto bisogno, E quindi siamo essenzialmente tutti poveri, Allora non potremo nemmeno accogliere il regno di Dio nella nostra vita, Perché Dio dà l'acqua a chi la chiede, E non a chi pensa di essere già dissetato. Non dobbiamo passare la vita ad addomesticare i nostri bisogni, Ma ad accoglierli con umiltà. Noi non possiamo fare a meno degli altri, Non possiamo fare a meno dell'amore, Non possiamo fare a meno di Dio, Non possiamo fare a meno di tantissime cose, E prima ce ne accorgiamo, Prima le accogliamo. Chi basta a se stesso è già all'inferno, Ma ancora non lo sa. Ci verrebbe da domandarci allora perché Molti santi, Nello scele della povertà, L'hanno intesa anche come povertà dalle cose materiali. Credo che questa scelta sia una scelta pienamente umana, E quindi profondamente simbolica. La distanza dalle cose materiali Ci ricorda la giusta distanza Che dobbiamo avere da tutto ciò che ci spinge A un'autosufficienza mortifera. Capita troppo spesso Che sono le cose a possedere noi, E non, invece, noi le cose. Meglio, quindi, provare un po' di fame E ricordarsi di essere liberi, Che essere sattoli e fondamentalmente succubi del mondo. La povertà è evangelica, E celebrazione di libertà, Non di sacrificio. E in un'autosufficienza mortifera.